Nel Cilento ritorna il Carnevale Intercomunale che è una manifestazione che coinvolge insieme quattro comuni cilentani Alfano, Laurito, Montano Antilia e Rofrano. L'evento è organizzato dalle quattro proloco, ovvero Alfano, Laurito, Montano Antilia e Rofrano, realtà locali che sono state capaci di fare rete per obiettivi comuni, l'aggregazione e la condivisione delle attività ludico-ricreative e culturali del territorio, incentivando lo spirito di collaborazione in particolare dei giovani nella progettazione e realizzazione dei obiettivi. Si inizia sabato 23 febbraio a Rofrano alle ore 15 presso il parcheggio Tressanti dove prenderà il via la sfilata dei carri in gruppi e singole maschere con l'arrivo in piazza Cammarano dove si terranno i festeggiamenti folcloristici. Domenica 24 febbraio dalle ore 15 e ad Alfano presso il Rione San Pietro la sfilata si concluderà con la festa in maschera in piazza Cavalier Giovanni Greco. Domenica 3 marzo alle ore 15 a Laurito in zona Sant'Antonio con la sfilata che si concluderà in piazza San Giovanni Battista con la festa e le maschere. Gran finale martedì grasso 5 marzo a Montano Antilia con l'inizio della sfilata alle ore 15 che muoverà i primi passi dall'ingresso del paese per raggiungere Ponte Monaci. Qui ci sarà la premiazione del miglior carro, della maschera più originale, del gruppo più originale e della migliore coreografia. La festa in maschera concluderà l'evento. Il carnevale intercomunale è uno degli eventi cilentani più divertenti dell'anno in quattro location stupende immerse nella natura, tanta ospitalità e sano divertimento.